C'è un progetto ANCI Coreve che invita i comuni anche della provincia di Siriuso, oltre che della Sicilia intera, a partecipare per accedere ai fondi, anche perché è molto importante avere fondi per riuscire a riciclare il vetro. Sì, noi siamo qui a Siracusa per un incontro che vuole essere operativo con le amministrazioni, le SRR, le Exato e i gestori, per consentire di migliorare e sviluppare la raccolta differenziata in una regione che ha ampi margini di miglioramento, in particolare in provincia di Siracusa, dove sicuramente si può fare molto. Diciamo che ci sono sicuramente delle chiavi di lettura che possono permettere il miglioramento. Una è quella di evitare la dispersione della gestione della raccolta differenziata in tanti piccoli rivoli, perché questo non consente, per esempio, dal punto di vista della logistica, di arrivare ad avere dimensioni che consentano l'avvio a riciclo del materiale da raccolto. Dall'altra parte, noi siamo consci di poter aiutare i gestori e amministrazioni a potenziare le infrastrutture per la raccolta e a fare campagne di comunicazione che dicano ai cittadini cosa va o non va conferito alla raccolta differenziata del vetro. Banalmente, non molti forse sanno che perché la raccolta differenziata del vetro sia efficace, vanno buttati soltanto bottiglie e vasetti nei contenitori verdi per il vetro. Ceramiche, pirofile da forno, bicchieri, sono tutti materiali che in realtà vengono assimilati al vetro, sono vetri speciali che poi in realtà fanno buttare via una grande quantità di materiale raccolto. Parliamo di riciclaggio del vetro. Non è sicuramente tra le priorità in questo momento dell'amministrazione siciliana, anche e soprattutto perché mancano impianti di selezione e preselezione, tanto che la percentuale di raccolta è veramente risibile. Sì, questo è vero, ma il fatto che noi siamo qui come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Coreve oggi, in questa splendida cornice, durante i campionati del mondo di Cano Apollo, che sono splendidamente organizzati da Siracusa, testimonia una volontà che come Associazione dei Comuni, ma anche come mondo delle imprese, noi abbiamo da qualche anno e anche nei prossimi mesi di sviluppare tutta una serie di meccanismi di sostegno per le amministrazioni comunali in questa regione, affinché le percentuali di raccolta, che in questo momento rappresentano faranino di coda sull'interno dell'interno nazionale, perché in una media del 30% all'euro italiano, la provincia di Siracusa ha il 6.9%, quindi siamo molto sotto, però noi pensiamo che questo sia un'opportunità, quindi abbiamo degli strumenti finanziari con cui vorremmo cofinanziare ed accompagnare le amministrazioni e le aggregazioni dei comuni, c'è un'ottima volontà in questa area, soprattutto a Siracusa, di creare un'aggregazione che possa efficientare anche i processi di miglioramento della raccolta. Questo spazio, che in questi giorni ha rappresentato il quartier generale della sostenibilità nella manifestazione dei mondiali, ha ospitato diversi incontri e soprattutto ha cercato di rendere il più chiaro possibile quelli che sono i principi ambientali che rappresentano il fondamento di questo mondiale, che per la prima volta si impegna ad essere un eco-evento.